Sono Franco Arcovito e siete sul mio programma a 360 gradi. Oggi ho un collegamento con il professor Francesco Pira e a lui nella qualità di sociologo voglio raccontare qualcosa e poi chiedergli una sua opinione. Anni fa io ho fatto uno spot pubblicitario gratuito naturalmente sul disagio e ho utilizzato come testimonial Arturo di Napoli che all'epoca era chiamato Re Artù. Infatti lo spot adesso lo si ritrova digitando Re Artù a 360 gradi. Comunque in quello spot io ho utilizzato un piccolo pezzo della canzone di Franco Bacchiardi. Sono Arturo di Napoli. Si ho mai vissuto situazioni di disagio e pensato di mollare? Certo, ma non l'ho fatto, anche perché altri mi hanno aiutato a credere nel mio futuro. Adesso è il mio turno di aiutare gli altri, di cui io voglio parlare oggi con il professor Pira che sicuramente lo ha incontrato. Il pezzo era cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Però prima voglio fargli una domanda. Com'è possibile che benché io sia arrivato a un'età piuttosto matura sia ancora alla ricerca di questo centro di gravità? Ma credo che intanto buonasera e grazie per questa chiacchierata su Battiato. Parlare di Battiato per me è sempre una delle cose più belle che mi possono capitare, perché è uno degli incontri nella vita che ti rimangono impressi e che ti porti dentro, di una grandissima anima, perché non era solo una persona, ma era una grandissima anima piena di cose positive e do dei ricordi veramente molto interessanti. La domanda è davvero una domanda che sembra scritta come quelle domande che rimangono nel tempo, perché dire cerco un centro di gravità permanente in questo momento in cui tutti definiscono questa società come la società delle complessità. C'è stato un recentissimo convegno a Messina organizzato da Monsignor Giotta Villa, che è appunto il responsabile della comunicazione della Curia, e c'era proprio una di queste sezioni a cui ho partecipato come relatore dove si parlava di questa società della complessità. Oggi io penso che tutti cerchiamo a qualunque età un centro di gravità permanente. La differenza è che alcuni di noi hanno consapevolezza su che cosa può essere la gravità permanente, altri invece sono sospesi, altri fanno solo ed esclusivamente surfing, stanno in superficie, amano non assumersi nessuna responsabilità e guardare la vita come se fosse qualcosa da sorvolare, senza mai prendersi un impegno, senza mai mantenere un impegno. E in questa società della complessità l'aspetto anche della cattiveria è un aspetto molto importante. Io ripenso al caso recentissimo della ragazza uccisa incinta di sette mesi a Milano e mi chiedo qual è il centro di gravità permanente per quest'uomo che l'ha messa incinta e poi l'ha uccisa, ma che è andato su Google a cercare il modo per far sparire il cadavere, che addirittura si voleva fare un alibi continuando a mandare messaggi facendo finta che la sua compagna non rispondeva e l'ha uccisa pur sapendo che portava in grembo un figlio che era suo. E quindi credo che oggi cercare un centro di gravità permanente è qualcosa davvero difficile perché la società è molto fluida, potremmo dire liquida come diceva Bauman, ma forse è meglio dire fluida perché tutto sembra attraversarci e attraversare senza mai un confine, senza mai fermarci, senza mettere dei punti fermi, proprio come se fossimo senza un centro di gravità permanente, anzi senza proprio gravità. Che non mi faccia mai cambiare idea. Anche questa frase sembra una frase banale del cambiare idea sulle cose e sulla gente, invece oggi noi ci troviamo in questa società complessa esattamente al fenomeno opposto, cioè che noi siamo capaci di dire peste e conna a una persona e di dire il bene un minuto dopo e un po' se vogliamo dirlo sociologicamente, andare dietro a quell'effetto che gli studiati americani chiamano effetto locusta, cioè noi stiamo dietro a quelli che ci sembrano più avanti e li seguiamo. Poi fino a quando magari poi non ci stanchiamo e andiamo dietro, un po' come quel momento veramente imbarazzante del film Forrest Gump, quando lui inizia a correre e tante persone si mettono a correre dietro di lui senza sapere perché stavano correndo e dove stavano andando. Poi a un certo punto Forrest Gump, che secondo me è un personaggio straordinario, a un certo punto si ferma e dice basta mi sono stancato, io non voglio più correre. E tutte queste persone sono completamente disorientate perché dicono ma come noi venivamo dietro di te e tu ci dici che non vuoi più correre, noi adesso che facciamo? Ecco, è questa un po' la sensazione ed è una sensazione che nasce da tutto il contrario di tutto, in un'era che è molto deideologizzata, perché non dimentichiamoci che fino a 30 anni fa l'ideale, il valore, lo schieramento politico era qualcosa che ci teneva in qualche modo imbrigati. Invece oggi questa deideologizzazione, questa incapacità di fare squadra, di fare comunità, di sentirsi in qualche modo aggregati ha completamente stravolto il nostro modo di essere. Ma la cosa straordinaria che viene fuori andando a rileggere tutti i testi e tutti gli scritti di Franco Battiato è l'inquietante attualità. Ripensavo a Povera Patria proprio qualche giorno fa che era la festa della Repubblica, ma potremmo pensare al concetto di cura, della cura, potremmo pensare persino ai testi che lui ha scritto in arabo. Credo unico cantautore italiano capace di scrivere, leggere e cantare e cantare in arabo. Per esempio io ricordo dell'esperienza sua in Tunisia, i Trinity di Tosea. Lì in pratica lui voleva esprimere quello che si prova o che si può vedere andando in questi posti, in quel posto, perché ci sono dei deserti di sale e ovviamente d'estate il sale evapora e pare che si possa assistere a dei miraggi o delle robe del genere. Ecco perché Battiato scrisse con Alice, credo poi lo canto con i Trinity di Tosea. Volevo soltanto fare un piccolo accenno. Io ho conosciuto Battiato parecchi anni fa e per la verità l'ho conosciuto in un contesto buddista, cioè a dire io sono andato come ha detto stampa ad un incontro con il Dalai Lama, a Pomaia credo, e c'era anche lui. Abbiamo pure scambiato proprio quattro parole secche così. Cioè sulla spiritualità di Battiato, che poi so che si è rivolto un po' al Sufi, che cosa lei può dirmi? Che cosa lo ha colpito? Io penso che lui mi ha dato la stessa sensazione di un guru. Io devo dire che ci sono state delle cose. Andai con lui, l'esperienza più bella che io ho fatto è stata a Bagdad, perché nel 1992 Battiato si inventò una cosa straordinaria, un concerto per la pace nel teatro di Bagdad, che non è la Bagdad di oggi, ma era la Bagdad in pieno regime di Saddam, quindi regime dittatoriale con Saddam in carica. E lui organizzò questo concerto nel teatro di Bagdad, il primo ed unico concerto della mia vita che io vidi accanto ai militari con i fucili spianati, dentro il teatro. In quell'occasione lui riuscì veramente a superarsi, fece oltre due ore di concerto, cantò tre canzoni in arabo, poi fece tutto il suo repertorio, diciamo il suo repertorio più soft. Certamente non si mise a cantare Voglio vederti danzare queste canzoni qui, però era un Battiato che aveva interpretato esattamente quello che stava accadendo in quel paese, cioè un paese che era vittima da una parte di un dittatore che si imponeva con le sue leggi. Dall'altra era un paese vittima di bombardamenti di tanti paesi alleati che certamente dichiarando guerra all'Iraq, perché l'Iraq non era un paese qualunque, era un paese dove c'era il petrolio, dichiarando la guerra all'Iraq avevano deciso di fare questa guerra senza mezzi termini. Quindi quando io andai, perché andai lì? Andai lì perché Videomusic, che era la televisione per cui io allora lavoravo, la direttrice che era Daniela Brancati, poi direttore del Tg3, mi chiamò e mi disse senti io voglio mandarti in Iraq per fare un reportage che deve fare da traino al concerto che noi manderemo la notte di Natale. Quindi il reportage durerà mezz'ora e dopo noi trasmetteremo tutto il concerto registrato a Baghdad. E quindi partimmo dall'Italia, io cominciai a documentarmi sull'Iraq, trovai pochissime cose, molti dei racconti anche dei giornalisti di guerra hanno racconti sui loro disagi, racconti abbastanza stereotipati, non c'era nulla, c'erano solo degli articoli che allora facevano il manifesto che veramente dicevano, attenzione, che non è il problema solo Saddam, ma è il problema anche come tutti gli altri stanno gestendo questa guerra. E quindi partimmo, prima abbiamo fatto una riunione presso la sede dell'ambasciata cinese, perché gli iracheni non avevano l'ambasciata in Italia, parlammo con questo addetto culturale dell'ambasciata irachena e in quell'occasione loro ci dissero quali erano i limiti. Per esempio noi avremmo voluto intervistare una delle mogli di Saddam e su questa cosa stava saltando tutta la trattativa. Poi loro ci dissero noi vi faremo affiancare da due persone dei servizi iracheni per tutto il periodo della... quindi noi sapevamo che in qualche modo ci potevano essere dei limiti, però era troppo bella questa sfida. E quindi partimmo addirittura con un aereo, c'era l'embargo sull'aeroporto di Bagdad, quindi partimmo con un aereo per Amman, da Roma per Amman, con controlli perché anche i servizi israeliani facevano controlli su chi andava in Iraq, quindi ci hanno fatto controlli di tutti i tipi. E poi quando siamo arrivati ad Amman abbiamo dormito una notte e lì domani ci hanno messo su un pullman, pensi per un attimo al pullman peggiore delle torine locali, proprio quello più brutto, più... e siamo saliti lì e ci siamo fatti 24 ore di deserto, da Amman a Bagdad. Non c'erano autogrill, non c'erano aree di servizio, quindi quando ci fermavamo lì ci mettevamo attorno per proteggerci, anche per fare i nostri bisogni. Ci hanno dato per rifocillarci un tè nel deserto che naturalmente immediatamente ci ha fatto venire la dissenteria, perché immaginate con che acqua veniva fatto. E poi siamo arrivati finalmente a Bagdad, dove siamo stati presi in consegna da due uomini appunto dei servizi iracheni, molto simpatici devo dire, i quali insomma ci presero la prima battuta che mi fecero, dice ma tu vieni dall'Italia, da dove vieni? E io gli ho detto dalla Sicilia. E lui mi rispose, ah Sicilia, schillaci e mafia, erano le due cose che loro immaginavano. Io arrivo in Iraq e la prima cosa che mi sento dire quando gli dico che sono siciliano, poi tra l'altro i miei compagni di viaggio, che era una regista che si chiama Chiara Martinetti, poi ha lavorato tanto in Rai, poi c'era un operatore e un assistente che erano romani, naturalmente li presero in giro tutto il tempo perché l'unica idea della Sicilia era questa cosa qui. Però il rispetto veniva dal fatto che Battiato era siciliano e quindi questo mi dava un imprinting importante. A proposito della Sicilia, Battiato ha avuto anche un'esperienza politica all'epoca di Crocetta. Sì, sì, volevo finire sul discorso sufi, perché poi lui ci portò anche a una cena dei sufi lì, dove io non capì che cosa mangiammo, penso mangiamo anche delle rane, insomma era molto difficile capire quello che mangiamo, però per dare questa risposta la sensazione, anche quando lui finiva i concerti, delle persone che si avvicinavano, era quella di un guru, era quella di un padre spirituale, di una guida che in qualche modo le persone non cercavano solo per la sua bravura artistica, ma anche proprio per la sua capacità di dare delle risposte. Devo dire poi, questo mi spinse ad andare a vedere anche negli archivi tutte le interviste che lui rilasciò e anche da quando lui si imponeva come, diciamo stravolgendo quello che era il suo modo di essere, come cantante commerciale, lui cercava sempre di far passare dei messaggi molto alti, quindi io penso che c'è stata sempre dentro Battiato questa grande spiritualità. Sì, in effetti sì, secondo me si è accentuata poi con la malattia, è una mia ipotesi naturalmente, comunque le dicevo a proposito dell'esperienza politica all'epoca del governatore Procetta, lui diventò assessore al turismo della regione sicilica e poi naturalmente lo fece in maniera gratuita, al solito, ma a un certo punto lasciò perché si rese conto che la politica non è una cosa che può funzionare per le persone, devo dire per le persone per bene, ma offenderei quelli che fanno politica. No, ma lui in quell'occasione fece uno scivolone sulle donne, disse una battuta che poi insomma fu presa anche di mira non solo dalla destra ma anche dalla sinistra, poi lui disse io non sono adeguato, non è una cosa che mi appartiene, io non ci riesco, mi sono messo a disposizione perché pensavo che la mia immagine in qualche modo potesse servire, però in realtà la sensazione che tutte le persone che insomma gli volevano bene, che lo stimavano, hanno avuto e che lui in qualche modo si è sentito usato dalla politica e poi scaraventato fuori nel momento in cui, perché io penso che questi grandi personaggi li devi un po' accettare per come sono e anche non giudicare quello che dicono ma interpretare quello che dicono, ecco c'è da dire che forse la sua ingenuità è stata quella di pensare che lui era comunque un libero pensatore che poteva dire tutto quello che voleva anche da assessore regionale, invece non andò proprio così, non dimentichiamoci che Crocetta comunque vinse con una maggioranza che non era proprio una maggioranza strabordante, quindi era un governo che aveva nella Sicilia del 61 a 0 una pressione molto forte e questa pressione molto forte che poi insomma ha portato anche a tutta una serie di scontri non soltanto politici e quindi credo che lui sia stato un po' vittima di questa operazione, che lui stesso poi ha cercato sempre, ogni volta che la tiravano fuori, ha cercato sempre di dimenticare, ha cercato sempre di schivare, si è sempre sentito lui un po' lontano da queste cose, cioè lui voleva veramente in maniera pura e chi lo conosceva in qualche modo lo sa perché io so quanto lui amava la Sicilia, ricordo una delle cose più belle a Baghdad, fu che il direttore di video music mi disse che finito il concerto dovevo fare subito un'intervista, allora non c'era internet, non era semplicissimo trasmettere anche queste interviste. Era nel 92. 92, dicembre 92. Noi partimmo, siamo stati lì circa 20 giorni, abbiamo girato, per fare un reportage di 30 minuti, abbiamo girato quasi 24 ore, cioè nel senso 24 ore di girato in 20 giorni, poi 10 ce l'hanno sequestrati i servizi e quindi sono arrivate in Italia solo 15 ore. Ma c'è stato un altro episodio che è stato veramente molto brutto, che noi ci portammo come traduttore dall'arabo all'italiano un ragazzo iracheno che studiava a Milano e questo si presentò proprio un bravo ragazzo eccetera eccetera, noi ce lo portammo dietro, quando poi siamo tornati in Italia e un altro interprete arabo ci fece la traduzione di quello che lui aveva tradotto, noi scoprimmo che questo ragazzo era del partito Bat, per cui le domande che noi facevamo in italiano venivano tradotte tutte a favore del regime, quindi noi abbiamo potuto diciamo avere integrali tutte le interviste che erano in inglese, ma le interviste che erano fatte con l'interprete abbiamo dovuto poi salvare alcuni pezzi perché la domanda era una domanda che comunque inficiava la risposta. Questa è una delle cose, poi tra l'altro un'altra cosa molto particolare fu che noi ci accorgemmo che avevamo le spie in camera, cioè avevamo le micro spie in camera, quindi una sera abbiamo detto va bene andiamo a fare un servizio nella discoteca dell'hotel, era un servizio che non era concordato nell'elenco dei servizi che noi volevamo fare, cioè noi pensavamo di essere come in Italia, spiriti liberi che prendevano la telecamera e andavano a fare le interviste e immediatamente ci hanno bloccato e da lì abbiamo capito che eravamo proprio nelle stanze avevamo le micro spie. Però devo dire una cosa che indipendentemente, cioè al netto di questi episodi è stata dal punto di vista professionale come giornalista l'esperienza in assoluto più bella. E stavo raccontando di Battiato, poi mi perdo in questi ricordi, che finito il concerto io gli feci un'intervista per il telegiornale di Video Music e allora lui a un certo punto quando lui gli fece una domanda dove si sentiva particolarmente che ero siciliano, a un certo punto mi disse Francesco ma tu sei siciliano? E ho detto sì sì sono siciliano, ma ci pensi la grandezza di questa cosa? Due siciliani a Baghdad, abbracciamoci. E ci siamo abbracciati per il semplice fatto che noi eravamo lì a documentare un concerto della pace che poi è rimasto nella storia della musica italiana, perché nessun altro ha mai fatto un'operazione di questo tipo, cioè andare in un teatro dove c'era un regime dittatoriale e fare un concerto per rivendicare la pace e per dire ai paesi cosiddetti civili finitela con l'embargo perché l'embargo significa togliere il latte ai bambini, togliere le medicine. Noi infatti siamo partiti dall'Italia, perché questo ce lo chiesero le associazioni umanitarie, con pochissimi vestiti e con le valigie piene di medicinali. Noi avevamo sotto i vestiti medicine che poi abbiamo portato, perché lì i bambini morivano perché non avevano un'aspirina, perché non avevano proprio medicinali anche che per noi erano banalissimi. Anche se stiamo parlando di 30 anni fa, è una cosa che fa molto effetto. Non penso che in Ucraina siano messi in maniera diversa in questo momento, anche se sono passati 30 anni. Professore, non solo in Ucraina, dove c'erano tutte le altre guerre, certo. C'è una guerra che è piena di problemi. Io sono tornato da pochi giorni da un'esperienza molto bella, è la mia seconda, in Armenia dove ho fatto un visiting, ho incontrato gli studenti armeni, abbiamo parlato proprio di fake news, di come sta cambiando il giornalismo, la comunicazione nel mondo e a un certo punto uno studente ha alzato proprio la mano e mi ha chiesto ma secondo lei che è un esperto di giornalismo, che insegna giornalismo, un professore di giornalismo, perché nel mondo non si sa che noi da dieci anni siamo in guerra con l'Azerbaijan e nessuno scrive questa cosa. Perché sta succedendo questo? Perché nessuno parla di questa guerra che sembra una guerra che non è mai esistita? Eppure sono morte tante persone. Ed è una risposta difficilissima da dare. Io l'unica risposta che mi sono impegnato a dare è farò qualcosa. Infatti con il professore che mi ha ospitato, che è il direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Jerevan, della Jerevan State University, abbiamo proprio pensato di scrivere un articolo su questo, un articolo scientifico e di farlo far conoscere il perché di questo silenzio in tutto il mondo. Tempo fa ho incontrato un giovane lituano. Questo giovane aveva fondato in Lituania una scuola, di robotica. Ora, così introduciamo le nostre prossime conversazioni. Che cosa pensa il professor Francesco Pira della robotica e se secondo lui in qualche modo un personaggio come Franco Battiato possa essere stato in qualche modo influenzato negli ultimi anni da queste nuove tecniche, da queste nuove scoperte? Io penso che l'unicità di Franco Battiato sia legata al fatto che lui abbia saputo interpretare il tempo che viveva. Questo credo sia la cosa più unica. Credo che la robotica sia un processo irreversibile. In questo momento negli Stati Uniti, in Giappone, stanno facendo delle sperimentazioni incredibili, stanno sperimentando l'avvocato robot e l'avvocato magistrato. In Giappone c'è da tempo il giornalista che attraverso l'algoritmo sceglie le notizie, giornalista robot e che fa il telegiornale. Dire che cosa pensiamo è molto difficile. Credo che ci sia un altro aspetto interessantissimo, cioè che cosa l'intelligenza artificiale riuscirà a produrre nei prossimi anni, anzi forse nei prossimi mesi. Pensiamo a quello che l'intelligenza artificiale sta facendo. È delle ultime ore la notizia che l'intelligenza artificiale di un drone ha ammazzato una persona. Pensiamo cosa i droni stanno facendo attraverso anche l'intelligenza artificiale rispetto all'ultima guerra, quella più conosciuta. Quindi credo che è molto difficile oggi dire quanto la robotica, quanto l'intelligenza artificiale, quanto il metaverso stravolgerà le nostre vite, perché ancora non ci rendiamo nemmeno conto di tutto quello che si sta facendo. Al contrario invece possiamo chiederci quanto rimarrà della nostra umanità. Perché se oggi l'intelligenza artificiale decide di creare un prodotto che poi sta facendo il giro del mondo, dove Harry Potter non è il maghetto, ma è un capo mafia, o è quantomeno un mafioso, ed è creato proprio dall'intelligenza artificiale, questo significa che si può stravolgere completamente tutta la creatività, significa sovvertire completamente anche quelle che sono le regole minime anche del modo di proporre alcuni prodotti. E quindi questo ci fa capire che tutto è messo in discussione e che tutto può diventare una deriva se noi lo vogliamo. Quindi sotto questo aspetto secondo me il robot può essere una persona che ci agevola in tantissime cose, partendo pure dalla cosa più banale, è il robottino che fa le pulizie, ma può essere anche portatore di derive, cioè tutti i dati che raccoglie il robottino che ci fa le pulizie, noi non sappiamo esattamente dove andranno a finire. Ma quindi si dovrebbe approntare un sistema di difesa? Penso che lo stiano approntando, penso che lo stia approntando senza andare tanto lontano. Alexa che noi abbiamo a casa o Siri, sembrano intelligenze artificiali stupide che non ci danno nessun tipo di problema e invece si capisce che senza alcuni blocchi possono andare a determinare un'invasione totale della nostra privacy. Invece io credo, e questo lo stanno dicendo gli informatici, anche i nostri informatici, proprio il professore Massimo Villari che è uno dei più grandi esperti al mondo di informatica e che l'ha detto proprio in un convegno sull'intelligenza artificiale che abbiamo fatto a noto, a cui ho partecipato anch'io ultimamente, ha detto che bisognerà aspettare ancora qualche tempo per avere dei sistemi di sicurezza diversi rispetto a quelli che abbiamo oggi. Ma procedono molto più rapidamente gli sviluppi della robotica che non i sistemi di… Eh, ma dietro c'è sempre un essere umano, quindi se l'essere umano vuole usare le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale per fare del male, lo può fare e se lo vuole usare per fare del bene, lo può fare. Cioè, anche il caso che sembrava banale dell'intelligenza artificiale dove hanno inserito dentro, questa chatbot dove hanno inserito dentro tutto quello che avevano scritto e detto i santi e poi tu ti potevi collegare, si chiama appunto prega.org e poi tu ti potevi collegare con i santi. Vai a spiegare alla signora Giacomina che non parli con San Francesco, ma che parli con un'intelligenza artificiale che ha incamerato tutto quello che San Francesco ha detto e che poi secondo una parola beccata dall'algoritmo ti risponde come se fosse San Francesco. Ecco, tanto è vero che il garante della privacy ha fermato questa cosa, in questo momento questo portale che si chiama prega.org è bloccato proprio per questo motivo, perché manca sempre il confine, manca sempre il centro di gravità permanente, ritorniamo all'inizio. Ma è in sostanza questo disagio che si sente, torno io allo spot in finale, se ho mai vissuto situazioni di disagio e pensato di mollare, certo, ma non l'ho fatto, perché altri mi hanno aiutato a credere nel mio futuro. Oggi è il nostro turno, Arturo Di Napoli diceva, è il mio turno, per aiutare gli altri a credere nel loro. Come usciamo dal disagio? Siamo portatori di diritti ma siamo anche portatori di doveri, quindi chi sta meglio deve necessariamente aiutare chi sta peggio. Poi bisogna effettivamente capire chi sta meglio, perché poi non è molto semplice. Non è molto semplice nulla. Va bene, professore, c'è un altro incontro che ha fatto con Battiato, rapidissimo da raccontarci. Un altro incontro bellissimo con Battiato è stato quello per preparare e poi consegnare al pubblico di video music l'unica partitura scritta da Battiato Sacra, cioè la messa, che noi abbiamo trasmesso in diretta come video music allora dalla Basilica di San Francesco in Assisi. È stato, credo, uno degli eventi più belli a cui ho partecipato e devo dire, allora c'era una collaborazione fortissima anche con Maglio Sgalambro, devo dire che quella partitura è stata qualcosa davvero di incredibile, ma poi in quel contesto, cioè nel contesto della Basilica di San Francesco. In quell'occasione ho fatto tante riunioni con Battiato e anche con tutti i suoi collaboratori. Tra l'altro lo andai a trovare nella sua casa di Milano, Battiato dipingeva benissimo, credo che proprio per questo sia un artista veramente eclettico, ha fatto cinema, ha fatto musica, è stato un pittore. Battiato era veramente immenso e mi ricordo proprio che mi fece vedere tutti i suoi quadri bellissimi nella sua casa di Milano che era davvero molto grande, molto bella. E in quell'occasione, perché ogni riunione, anche una riunione operativa con Battiato, c'erano proprio queste chicche che lui ci dava anche rispetto alle esperienze di vita che sono sempre delle esperienze molto, sono state delle esperienze molto singolari. Ecco, se dovessi dire una cosa per concludere è che non mi aspettavo che un uomo così grande facesse una fine così, perché le persone gli sono state più vicine, insomma mi hanno raccontato che negli ultimi giorni proprio lui non si rendeva nemmeno conto di chi era, non capiva più. E questa è una cosa che mi ha fatto stare molto male nel giorno in cui poi è morto, perché ho pensato che forse, non lo so, lo vedevo talmente come un eroe che pensavo che gli eroi non possono morire così o fare questo tipo di figli. Poi in realtà non è andata proprio così e poi la morte non ce la scegliamo, le malattie non ce le scegliamo e quindi tutto è abbastanza scritto. Presidente, professore, voglio concludere con un appello suo. Entrambi siamo nella Unione Cattolica Stampa Italiana. Ora, se lei volesse dire a chi può interpretare un indirizzo, che cosa direbbe all'Unione Cattolica Stampa Italiana rispetto a quello che si dovrà fare e affrontare in futuro? Ma io ho scritto di recente proprio sul portale dell'Unione Stampa Cattolica Italiana, su Desco Online, ho scritto proprio un articolo sulle povertà. A me mi fa molto paura la povertà e non soltanto la povertà delle persone che non riescono più a avere cibo, perché noi spendiamo, dice Papa Francesco giustamente, che se noi invece di spendere i soldi per le armi li spendessimo per sfamare le persone non ci sarebbe gente che muore di fame in tutto il mondo. Ma mi fa molta paura la povertà intellettuale, mi fa molta paura la povertà dei valori. Ecco, secondo me in questa società della complessità tutto questo crollo dei valori è qualcosa che non ci aiuterà. Il fatto di vivere in superficie, di fare surfing continuamente è una cosa che non ci fa stare bene, non ci fa stare meglio. Quindi io penso che se dovessi lanciare un appello lo farei contro ogni forma di povertà e soprattutto mi piacerebbe che si potessero dare le stesse opportunità a tutte le persone. Io lo dico perché anche noi che siamo nati in Sicilia non abbiamo le stesse opportunità di chi nasce in altre parti del mondo o di chi nasce in altre parti del nostro stesso paese. Quindi credo che la spinta deve essere una spinta a fare sempre, sempre meglio tutto quello che facciamo. Sono veramente felice di lavorare in un'università che negli ultimi anni ha avuto veramente dei risultati che sono eccezionali in termini di ricerca, di offerta didattica, di presenza di studenti stranieri. Credo che questo ci spinga nella quotidianità a fare sempre meglio. Va bene, professor Francesco Pirra. Buona serata. È vivo Abattiato. È vivo Abattiato, grazie della disponibilità. Ci risentiamo la prossima volta. È inevitabile. Andiamo a parlare di robotica. Parliamo di intelligenza artificiale. Va bene. Alla prossima. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi naturalmente.